La solidarietà spesso corre su Facebook, teatro di appelli per cause sempre differenti. Questa volta a lanciare l'iniziativa di una colletta per pagare la difesa di sua figlia è il padre di Veronica Panarello, la mamma 26enne di Santa Croce Camerina accusata di aver ucciso il proprio figlio, Loris Estival, di soli 8 anni il 29 novembre scorso. Veronica, dal carcere ad Agrigento in cui si trova, continua a proclamarsi innocente ed è proprio suo padre, Francesco Panarello, il suo maggiore sostenitore. Amici, è l'ora di dimostrare non solo a parole il nostro sostegno a Veronica Panarello, scrive sulla pagina Facebook Veronica Panarello Innocente, che registra oltre 2.100 adesioni. Il suo avvocato, Francesco Villardita, continua, essendo amico di famiglia, ha generosamente accettato di assisterla a pro bono, ma sono necessari i periti ed esperti per sostenere la linea difensiva. Obiettivo della difesa è infatti quello di smontare i punti saldi dell'accusa, ossia le immagini che inchiuderebbero la Panarello, e nei prossimi giorni chiederà un incidente probatorio al GIP del Tribunale di Ragusa in modo da fare assumere il ruolo di prova ai filmati. Secondo Villardita, il bambino, visto rientrare a casa, non sarebbe Loris, ma potrebbe trattarsi di un altro bimbo. Il professor Nello Balossino, docente alla Facoltà di Scienze di Torino, noto per gli studi sulla Sacra Sindone, sarà l'esperto della difesa chiamato a dimostrarlo. Altri due super esperti, il professor Giuseppe Sartori, ordinario di Neuroscienze Cognitive e di Neuropsicologia Forense all'Università di Padova, e il professor Pietro Pietrini, specialista in psichiatria presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia di Pisa, sono stati nominati per cercare di dimostrare l'attendibilità della vigilezza, che ha dichiarato di avere visto la mamma di Loris vicino alla scuola il giorno del delitto. Non ritenuta però poi attendibile dalla procura. Dubbi anche sull'ora della morte per la procura tra le 9 e le 10. Secondo il perito della difesa Pietranton Ricci, professore ordinario di medicina legale presso l'Università degli Studi di Catanzaro Magna Grecia, sarebbe da spostare di un paio di ore, cioè quando Veronica seguiva il corso di cucina al castello di Dona Fugata. Polizia e carabinieri intanto continuano a indagare coordinati alla procura, che però sembrerebbe non avere dubbi sulla colpevolezza della Panarello e che starebbe indagando per capire se vi siano dei complici. Un ulteriore dolore ha recato la nostra chiesa, così l'arcivescovo di Cosenza Bisignano, Monsignor Salvatore Nunnari, ha commentato la terribile vicenda di pedofilia che vede sotto accusa il sacerdote Camillo Sessa, arrestato a Napoli proprio con l'accusa di violenza sessuale sul minore. Il religioso cinquantenne originario di Licata è stato fermato dal nucleo tutela minori della Polizia Municipale all'interno di un internet point mentre toccava un ragazzino. Sessa è stato inoltre sospeso a Divinis con esonero dalle funzioni e da ogni attività sacerdotale da Monsignor Salvatore Nunnari, che secondo quanto scritto in una nota diffusa dalla Curia, ha presa la notizia dell'arresto per l'ignobile delitto di pedofilia, si è raccolto in preghiera e dopo la sospensione a Divinis ha informato le competenti autorità ecclesiastiche e la congregazione della fede. L'arcivescova ha anche espresso alla vittima di tale gesto brutale vicinanza ed affetto e alla famiglia piena solidarietà. Nel comunicato stampa il presurre spiega come il sacerdote originario di Egrigento dopo alcuni anni di servizio pastorale nell'arcidiocesi ha ricoperto il ruolo di cappellano del mare coordinato all'Ufficio Nazionale di Pastorale Marittima, concluso da circa un anno. Sessa aveva poi rifiutato un nuovo impiego pastorale in diocesi non rispondente ai suoi desideri, scrivono nella nota, per tornare in famiglia senza dare notizia di sé all'arcidiocesi da alcuni mesi. L'arcivescova nella parte conclusiva del comunicato ha espresso piena fiducia nell'azione della magistratura attendendo ogni sua decisione con spirito di irreale collaborazione. La vicenda intanto è al centro di indagini e dovrà essere chiarita in ogni aspetto. Il cadavere di Angelo Schivano, 44 anni, è stato trovato dentro un pozzetto dell'Ener incontrata a Zartate nel villaggio Sommarina a Capaci, vicino Palermo. Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco e sono intervenuti anche i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso dell'uomo. E' stata risposta all'autopsia che è stata eseguita nelle prossime ore nel studio di medicina legale del Polenico di Palermo. Nella zona del villaggio Sommarina, dove è stato trovato il cadavere, c'è la parcheggiata una vettura. Non è chiaro se l'uomo sia morto furgolato o sia scivolato e abbia sbattuto la testa. Secondo i cabinieri della compagnia di Capaci, che indagano su accaduto, l'uomo avrebbe tentato di rubare i cavi di rame. Nella sua auto, infatti, sarebbero stati ritrovati dei figli che Schivano aveva già prelevato. La Sicilia è al primo posto per i furti di rame, un reato che preoccupa perché corroda l'economia. I cacciatori dell'Oro Rosso hanno già danneggiato l'Italia per 100 milioni di euro negli ultimi tre anni. E questo è solo un dato parziale, calcolato soltanto sulla base dei danni diretti alle ferrovie. Un dato che non contiene il numero di ride che ogni giorno riempiono i mattinali delle forze dell'ordine. E poi sono i cosiddetti danni indiretti, abitazioni e fabbri che rimangono senza luce con grosse, grossissime perdite. A Palermo impianti sportivi ed uffici pubblici continuano ad essere nel mirino di teppisti, vandali e ladri. E così, dopo l'ultimo ride avvenuto sabato negli uffici dell'ottava circoscrizione, partono i controlli da parte degli agenti della polizia. Una pattuglia staziona già da 24 ore nell'area del Diamante, lo stadio di baseball di Fondopatti e del palazzetto dello Sport. La prima struttura è stata colpita venerdì mattina dai vandali che avevano buttato giù una torre faro alta più di 20 metri. Su questa incursione si è scoperto che i teppisti hanno distrutto la torre per portare via i cavi di rama all'interno, insieme ai grandi sistemi di illuminazione. Un lavoro lungo e meticoloso in cui è stata usata la fiamma ossidrica per segare il tronco. Insieme allo stadio di baseball anche il palazzetto dello Sport di Viale dell'Olimpo a Mondello è stato oggetto di continue spoliazioni, fino a quando non hanno rubato anche i grossi tubi di sostegno posti all'esterno. La presenza dei poliziotti, secondo l'assessore allo Sport Cesare Lapiana, conferma l'esigenza di un intervento straordinario oggetto dell'intesa fra sindaco e prefetto. Il primo cittadino di Palermo, Loro Corlando, che ha parlato di un grave problema di vigilanza degli edifici pubblici, ha chiesto infatti la convocazione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza che si riunirà lunedì. Boom di vendita nei centri commerciali, mentre restano stabili nel centro città e subiscono un calo nei negozi delle periferie. E' questo in sintesi il bilancio della stagione dei saldi a Palermo a una settimana dal suo avvio. Una situazione già prevista dalle associazioni dei consumatori che, tentando di mettere un freno agli sconti anticipati, hanno rilanciato sul loro cavallo di battaglia la liberalizzazione, ovvero un'autoregolamentazione con sconti senza vincoli temporali di un mercato che ormai, secondo il presidente provinciale di Confimpresa, Giovanni Felice, si muove ai ritmi dei nuovi consumatori, cioè di coloro che puntano agli acquisti per necessità. I dati non possono essere esaltanti, ha commentato Roberto Elg, presidente provinciale di Confcommercio. La provincia, ad esempio, registra una flessione nelle vendite, forse in parte da attribuire all'attrattiva dei centri commerciali. E sono proprio i centri commerciali, infatti, a raccogliere più clienti. Più di 300.000 visitatori sono stati registrati al centroforum di Palermo, il 10% in più rispetto al 2014. Trend positivo anche per il centro Conca d'Oro, dove durante la prima settimana di saldi ci sono state oltre 220.000 presenze, con un picco di ingressi di 48.000 persone nella giornata di avvio degli sconti. Nessuna novità, invece, per i negozianti del centro città. I primi dati sui saldi mostrano che non c'è ancora alcuna ripresa. Le vendite sono stazionarie rispetto al 2014 e quindi ancora basse per sperare in un'inversione di tendenza. L'unico dato positivo che emerge è la crescita delle transazioni con carte di credito e Bancomat con un più 80%, mentre scende l'importo medio per scontrino. Safia, la sicurezza dei tuoi beni più cari. La Sicilia muore, ma si può ancora salvare. È indispensabile imboccare subito la strada della crescita. Perché accada, la classe dirigente siciliana deve intervenire sulle istituzioni, affinché diventino efficienti. Perciò serve l'informazione investigativa, propositiva ed efficace. Scoprila su QDS.it Campagna Etica 2014 Abbonati al quotidiano di Sicilia. Il tuo contributo è un prezioso sostegno al grande progetto di risorgimento Sicilia per lo sviluppo e l'occupazione. Beni per un valore pari ad oltre 4 milioni di euro sono stati confiscati ad Antonino Bonafede, 79enne imprenditore e allevatore marsalese, che gli inquirenti ritengono vicino al boss Matteo Messina Denaro. Passano alla proprietà dello Stato due appartamenti, ubicati nel centro di Marsala, alcuni terreni agricoli e un impreso operante nel settore dell'allevamento di ovini. Beni già posti sotto sequestro nel febbraio del 2014. Il provvedimento è stato eseguito dalla Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Palermo, su ordine della sezione Misure e Prevenzione del Tribunale di Trapeni. Le indagini degli inquirenti hanno permesso di accertare una palese sproporzione tra i beni oggetti della confisca e i redditi dichiarati da Bonafede e dal suo nucleo familiare. Nel corso degli approfondimenti sono state riscontrate diverse irregolarità nella gestione di una delle aziende agricole, sottoposta alla misura cotolare e nella destinazione di alcuni vigneti per i quali l'imprenditore marsalese aveva fruito indebitamente di contributi pubblici. Il figlio di Antonino Bonafede Natale, in carcere da 2003, è ritenuto il capo della locale famiglia di Cosa Nostra di Marsala. Arrestato nel 1995, l'anziano boss ha già riportato una condanna definitiva per associazione mafiosa. Coinvolto nel maggio del 2003 nell'operazione Peronospera 2, nel marzo 2010 è stato denunciato assieme ad altre persone nell'ambito dell'operazione Golem 2, con cui fu smantellata la rete dei fiancheggiatori di Matteo Messina Denaro. Cinque colpi di pistola esplosi davanti a una banca in pieno centro. È stato ucciso così un impiegato comunale di Cerde in provincia di Palermo, preso di mira da un finanziere che ha fatto fuoco al culmine di una discussione probabilmente nata da un problema di carattere sentimentale. Si tratterebbe infatti di un delitto passionale, quello che si è consumato questa mattina in via Roma davanti alla banca Unicredit del centro Madonita a pochi metri dall'ufficio tecnico del municipio. La vittima è un uomo di 50 anni, Vincenzo Latona, ucciso da un agente della Guardia di Finanza che è stato immediatamente arrestato dai carabinieri. Ad avvisare i sanitari del 118 sono stati gli stessi colleghi della vittima che hanno sentito gli spari dall'ufficio tecnico del comune in cui lavorava anche Latona. Giunti sul posto insieme ai carabinieri della locale stazione, i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso della vittima. Il cadavere dell'uomo intanto è rimasto per qualche ora in strada in attesa dell'arrivo del medico legale. E ancora emergenze a rifiuti a Palermo e in provincia dove la scorsa notte sono andati nuovamente in fiamme diversi cassonetti. Nonostante sia tornata operativa la discarica di Bello Lampo dove i comuni scaricano a giorni alterni, la situazione sembra quindi non essere cambiata. Gravi disagi si erano già verificati dopo lo stop alla raccolta tra il 31 dicembre e il 4 gennaio, ma adesso a far paura è l'incertezza che alleggia sul lato Palermo 1 in scadenza il prossimo 15 gennaio. E così da Bagheria a Partinico, da Cefalufino a Carini e Cinisi, l'immondizia si è accumulata in diversi comuni della costa tirrenica ma anche nelle zone del quartiere palermitano dello Zen. Montagne di immondizia si sono formate lungo le strade di Cinisi e Carini. I sacchetti sono lì da settimane e i comuni da soli non riescono a smaltire il carico e tornare al regime. Le discariche abusive si moltiplicano, i rifiuti abbandonati circondano le zone abitate e in alcuni casi impediscono ai residenti di entrare addirittura nelle proprie case. Il sindaco di Carini, Giuseppe Agrusa, promette che nei prossimi giorni i compattatori si concentreranno proprio nella zona di Villa Grazia, dove si è formata, tra le altre, una discarica lunga ben due chilometri, vicino all'autostrada. Nonostante i mezzi siano in giro anche per sei ore al giorno a sicura grusa, non riescono a garantire ai cittadini le strade pulite perché la mole dei rifiuti è enorme. Situazione analoga anche a Cinisi, dove il sindaco Gianni Palazzolo ha dovuto spendere 15.000 euro di fondi comunali per conferire con mezzi privati 50 tonnellate di rifiuti a Bello Lampo. Siamo al collasso, dice Palazzolo, che chiede alla regione garanzie per il futuro. Ancora una volta la provincia grigentina si conferma al centro del fiorende mercato dell'Oro Rosso, grazie ai furti di rame. E non a caso che proprio da Grigendo il ministro degli interni, l'agrigentino Angelino Alfano, mesi fa, in un vertice alla prefettura, chiama a raccolta i massimi responsabili delle forze dell'ordine per un vertice nazionale contro il dilagante fenomeno. E la notte scorsa l'ennesima operazione è condotta dai carabinieri sul versando orientale della provincia, epicentro del bliz Ravanusa, dove nella notte una banda, composta da nove romeni, specializzata nel furto e nella ricettazione di rame, è stata sgominata. Due le persone finite in carcere, sei ai domiciliari, mentre ad una nona è stato notificato un divieto di dimora a Ravanusa. In carcere sono finiti Costellaperti e Gheorghe Tanasa, ai domiciliari Cosmine Dumitru, Neica, Costandine Pure, Florin Lupo, Valentin Iancu, Vasile Cobzariu e Cristian Ciobanu. Divieto di dimora a Ravanusa per Oana Moan. I provvedimenti cautelari sono stati emessi dal GIP ed aggrigento Stefano Zammuto su richiesta dei sostituti procuratori Sando Fornasier e Alessandro Macaluso. Dalla procura diretta da Renato Di Natale si sottolinea come anche in questa inchiesta dimostra la massima attenzione rivolta dall'ufficio ai delitti contro il patrimonio in un contesto di particolare allarme sociale di recente evidenziato proprio da aggrigento dal ministro dell'interno. L'inchiesta però non è conclusa con gli arresti di oggi. Le indagini proseguono per accertare eventuali altre corresponsabilità e vengono svolte dai carabinieri di aggrigento al comando del colonnello Mario Mettifogo. Alle 10.35 di questa mattina al Quirinale è stata ammainata la bandiera. Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha firmato la lettera con cui lascia il colle dopo quasi nove anni di mandato. La lettera di dimissione è stata consegnata al Secretario Generale della Presidenza della Repubblica, Donato Marra, ai Presidenti di Camera e Senato e al Presidente del Consiglio. E sarà proprio il Presidente dell'Aula di Palazzo Madama, Piero Grasso, a svolgere ad interim le funzioni di Capo dello Stato. Si avvia così la Corsa al Colle, l'ennesima travagliata pagina di storia italiana. Il Premier Renzi, in una dichiarazione, ha auspicato che il futuro Presidente sia un arbitro di alto livello. Dal PD, che ha giardinito la segreteria, hanno fatto sapere che verranno avviati una serie di incontri con tutte le forze politiche, in vista dell'elezione del successore di Napolitano, confermando l'obiettivo del quarto scrutinio per la fumata bianca. Il Presidente dell'ABC Mario Draghi, tra i nomi papabili come successori di Napolitano, ha nuovamente declinato l'invito, dichiarando «è un grande onore, ma non è il mio lavoro». Napolitano, nel messaggio di commiato, ha sfoderato il suo granitico credo, auspicando a un Paese che sappia ritrovare, di fronte alle questioni decisive e nei momenti più critici, la sua fondamentale unità. Ad attendere quello che ormai l'ex Presidente della Repubblica, sarà nuovamente la carica di senatore a vita, inserendosi all'interno del gruppo misto e scegliendo con ogni probabilità la commissione esteri o quell'affari costituzionali. Manca una pensione dorata, come sottolineato sulle pagine del Fatto Quotidiano. Oltre 15.000 euro netti mensili potrebbero infatti spettare a Napolitano una lunga lista di rimborsi e indennità a carico del bilancio della Presidenza della Repubblica, ma anche benefit degni di un monarca. Dallo staffo personale di almeno 10 persone, all'assistente alla persona, all'autoconautista, riservato anche a vedova e primogenito. Un trattamento straordinario a cui speriamo il Presidente Merito vorrà rinunciare. Continuano le indagini per individuare le cause che due giorni fa hanno provocato la morte di due pazienti ospiti nella casa di riposo Beautiful Day di Pedalino, frazione di Comiso, nel Ragusano. Le vittime, ricordiamo, sono un uomo di 47 anni, originario del capoluogo Ibleo, e una donna 52enne di Vittoria. Oltre a loro, altre 4 persone, tutte ospiti della struttura che accoglie anziani e malati con disagi psichici, sono state ricoverate nell'ospedale Guzzardi di Vittoria dopo aver manifestato i sintomi di una intossicazione alimentare. Sul caso indagano gli agenti di polizia e la squadra mobile, che su delega della procura di Ragusa hanno sequestrato cibo, farmaci e bevande che avrebbero causato la tossicosi. Oltre al sequestro degli alimenti, la procura ha disposto anche gli atti per l'acquisizione delle cartelle cliniche mediche delle vittime. Tre avvisi sono stati notificati dalla polizia a persone interessate dall'inchiesta. Si tratta però di avvisi emessi come atto dovuto per poter compiere esami irripetibili come l'autopsia. Rimane ancora senza indagati, infatti, il fascicolo di inchiesta, aperto dal procuratore Carmelo Petralia e dal sostituto Francesco Puleio per duplice omicidio colposo e lesioni personali. Sarà il medico legale Giuseppe Ragazzi ad eseguire le autopsie sui due corpi e gli accertamenti tossicologici. Sono stati anche nominati come periti alcuni esperti dell'Istituto di Medicina Legale di Catania. I primi esiti degli esami non si conosceranno prima di alcuni giorni. Macab era scoperta nella notte in un appartamento della Zisa dove sono stati trovati due corpi senza vite di un uomo e una donna. Si tratta di Stefano Sorge, 59 anni, e della madre Eleonora Verderosa, di 90. I due cadaveri sono stati rinvenuti nella loro abitazione in via Ida Castelluccio, traversa di via Eugenio Lemiro, nel quartiere palermitano della Zisa. A dare l'allarme è stato un altro figlio della donna, residente in Lombardia, che non avendo notizie dei familiari da diversi giorni, ha deciso di chiamare la polizia, che con l'aiuto dei vigili del fuoco sono riusciti ad aprire la porta chiusa dall'interno. Nella notte sono intervenuti anche gli uomini della scientifica per effettuare i rilievi e cercare di far chiarezza sul loro decesso. In base alla prima ispezione cadaverica effettuata dal medico legale, non sembrerebbe che i due corpi abbiano segni evidenti di violenza, ma non è stato possibile effettuare esami più approfonditi visto l'avanzato stato di decomposizione. Il corpo della donna è stato trovato sul balcone dell'appartamento con una coperta addosso, il figlio invece si trovava disteso sul letto. L'uomo in passato aveva avuto problemi di droga. Gli investigatori stanno cercando di far luce sulla vita della donna e del figlio, alla ricerca di elementi utili alle indagini. Si dovranno aspettare gli esami del medico legale per stabilire le cause del decesso. In materia di primati negativi, la Sicilia non si fa mancare nulla. Dal record di auto blu, un parco di 801 vetture, a dirigenti in esubero, uno ogni otto dipendenti, sino al recente elenco delle città con maggiore numero di opere incompiute, dove l'isola si assesta al terzo posto. In Italia sono in tutto 693 le opere a metà, in testa il Lazio con 82 strutture costate 250 milioni di euro. A seguire ci sono Sardegna e Sicilia con rispettivamente 69 e 68 opere incomplete. La Calabria detiene il record per soldi spesi senza risultato, 64 opere con un costo di 451 milioni di euro. Mentre tra le virtuose la provincia di Trento con tutte le opere complete, seguita poi da Bolzano con solo 14 opere da completare. La lista delle opere a metà, da una punta all'altra dello stivale, è però davvero lunga e comprende di tutto. Dalle scuole all'edilizia pubblica, ai canali di irrigazione, ai teatri, ai pannelli fotovoltaici, ai loculi cimiteriali, alle autostrade, ai palazzetti dello sport, sino a megastrutture come la città dello sport, progettata dall'architetto Santiago Calatrava, primondiale di nuoto di Roma, ma abbandonata a metà. Troppi soldi. Dal censimento avviato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si è calcolato una spesa di circa 3 miliardi di euro spesi per le 700 opere incompiute e ne servirebbero 1,5 miliardi per completarle tutte. A essere incompleti anche i dati, perché come spiegato dal Vice Ministro Riccardo Nencini, la legge che impone il censimento ha solo tre anni e molte amministrazioni non hanno ancora comunicato le opere incompiute sul proprio territorio. Intanto sono al vaio diverse ipotesi per l'utilizzo di questo patrimonio che a causa della scarsezza di fondi è destinato all'abbandono e al deterioramento. Dal Ministero si parla della possibilità di una collaborazione pubblico-privato, pensando a bonus fiscali per i privati da discutere con il MEF, incentivi per le pubbliche amministrazioni che faranno del tema una priorità, ma anche di una revisione urbanistica per il cambio di destinazione d'uso di alcune opere. Evasione fiscale a Palermo, sigilli e sequestri per un valore complessivo di un milione e mezzo di euro sono stati disposti dalla Guardia di Finanza a due società che operano in città. Nel mirino degli agenti sono finiti i rappresentanti legali di due aziende che lavorano nel settore della produzione di materie plastiche e nel settore automobilistico. Quest'ultima era concessionaria ufficiale di importanti marchi nel capologo siciliano. I finanzieri hanno posto i sigilli al patrimonio ricavato dalle due società, mentre per il responsabile della concessionaria è scattato anche il sequestro di quattro appartamenti, per un valore di un milione e duecentomila euro. Le indagini hanno permesso di accertare il mancato pagamento dell'IVA da parte delle due aziende che non avrebbero versato l'imposta per diversi anni. Per il recupero delle somme non incassate dallo Stato, il GIP del Tribunale di Palermo ha emesso un decreto di sequestro preventivo di un immobile per un valore di 180 mila euro nei confronti del rappresentante legale della società che opera nel settore delle materie plastiche. Si tratta di un sequestro cosiddetto per equivalente, istituito dal legislatore nel 2007 e che permette agli organi che hanno accertato il reato di proporre al giudice il sequestro e la successiva confisca dei beni per un valore che dovrà corrispondere all'ammontare dell'evasione accertata. Non ci sono più dubbi. Ad uccidere Antonella Alfano, quella mattina di sabato 5 febbraio 2011, è stato il suo compagno, Salvatore Rotolo Carabiniere. I giudici della prima sezione penale della Corte di Cassazione hanno confermato la condanna a 18 anni di reclusione inflitta sia in primo grado dal GUP del Tribunale di Agrigento che dai giudici di appello di Palermo. La Suprema Corte ha rigettato l'appello dei legali del Carabiniere, gli avvocati Sergio Monaco e Gioacchino Genchi depositato dopo la sentenza di secondo grado. Ma non solo, Rotolo è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali relative al terzo grado di giudizio pari a 5.000 euro per ogni parte civile rappresentata dagli avvocati Simona Fulco e Sebastiano Bellanca che hanno questa mattina ribadito la richiesta di condanna per Rotolo. Il militare è stato anche condannato al pagamento di una provvisionale a titolo di risarcimento danni pari ad 1.250.000 euro così suddivisi, 500.000 euro per la figlioletta Elide avuta da Antonella e 250.000 euro per ogni familiare diretto ossia madre e fratelli della vittima. Antonella Alfano venne uccisa la mattina del 5 febbraio 2011. Il cadavere bruciato venne rinvenuto all'interno della sua auto, una Fiat 600 finita fuoristrada all'interno di un boschetto in via Papaluciani poco fuori a Grigento. All'inizio sembrava un normale incidente stradale ma ben presto le indagini portarono alla drammatica e tragica scoperta cioè che si trattava di un brutale omicidio. Il carabiniere avrebbe dapprima strangolato la sua compagna poi messa dentro l'auto e simulato un incidente stradale e dato fuoco alla vettura. Fin da subito per gli inquirenti l'ipotesi incidente era poco convincente. La svolta avvenne quattro mesi dopo, nel giugno 2011 quando Rotolo venne arrestato dagli agenti della squadra mobile. Per completare il mosaico mancherebbe un ultimo tassello. Per i giudici infatti Rotolo non avrebbe agito da solo ma il presunto complice non è ancora stato individuato. Il presidente della regione Rosario Crocetta e Antonio Fiumefreddo tornano a lavorare insieme. Già in passato l'avvocato catanese si era dimesso dall'assessorato regionale e beni culturali e la decisione era stata presa dopo essere stato al centro di non poche polemiche. Il nuovo importante incarico che gli viene affidato da Crocetta lo metto adesso alla guida di Riscossione Sicilia. La società regionale ha come missione di incassare i tributi e le altre entrate della regione siciliana. Antonio Fiumefreddo sostituisce l'avvocato Lucia Di Salvo. La sua nomina non sarebbe stata molto gradita all'assessore all'economia Alessandro Baccei che aveva pensato di far fallire la società Riscossione Sicilia per portare in Serit le competenze a gestire. Con la nomina di Fiumefreddo si apre invece un nuovo fronte nei rapporti tra Crocetta e l'assessore romano Baccei mandato da Renzi in Sicilia per cercare di far quadrare i conti. Pare infatti che nelle intenzioni del governatore ci sia il desiderio di rilanciare Riscossione Sicilia non di farla fallire ritenendo la società strategica per garantire maggiori entrate alla regione. Nuovo colpo dei Carabinieri del Rosso e del Comando Provinciale di Trapani al clan del boss di Castelvetrano, Matteo Messina Denaro. L'operazione dei militari ha messo in atto un maxi sequestro di beni per un valore complessivo di 18 milioni e mezzo di euro nei confronti di persone ritenute collegate al superlatitante. Sotto sequestro sono finiti i beni dell'imprenditore Salvatore Angelo e del presunto mafioso Antonino Nastasi. Quest'ultimo già condannato all'ergastolo per associazione mafiosa ed omicidio nel 1996. Nastasi fu anche socio di Filippo Guttadauro e Francesco Messina Denaro nella cooperativa agricola mediterranea nonché proprietario, stando ad alcune dichiarazioni di alcuni pentiti, del terreno utilizzato nel 1993 per occultare l'esplosivo delle stragi mafiose avvenute a Roma, Firenze e Milano. I sequestri riguardano 8 beni aziendali, 132 immobili, 7 autoveicoli e circa 22 tra rapporti bancari e finanziari. Dall'accertamento patrimoniale è emerso come la rete criminale di Matteo Messina Denaro fosse in grado di intervenire nell'esecuzione di importanti lavori nel settore dell'energia rinnovabili attraverso società controllate proprio dall'imprenditore Angelo Salvatore considerato il centro intorno al quale si muoveva il sistema societario con cui il clan si sarebbe infiltrato. Tra i progetti in cui Denaro avrebbe messo le mani ci sarebbero la realizzazione dei parchi eolici di San Calogero di Sciacca Eufemia di Santa Margherita Belice e Contessa Entellina. Dalle indagini è emerso inoltre come una percentuale dei proventi derivanti da questa attività venisse destinata proprio all'organizzazione e soprattutto al sostentamento della latitanza di Matteo Messina Denaro. Franco Antonio Genovese arriva su una Fiat Punto della Guardia di Finanza con vetri oscurati seduto sul sedile posteriore tra due finanzieri. Fotografi ed operatori di ripresa si lanciano sulla vettura. Lo scatto di Enrico Di Giacomo pubblicato su repubblica.it mostra l'ex sindaco di Messina e il leader regionale del Partito Democratico visibilmente provato come ha dichiarato di essere quando si è avviato verso la casa circondariale di Gazzi dalla sua abitazione. Sono le 16.40 di ieri quando la macchina entra nel viale interno del carcere. È la seconda volta che Genovese, accusato di essere il vertice dell'organizzazione che guadagnava illecitamente con i corsi regionali di formazione, varca quella soglia. La prima era stata il 15 maggio 2014 quando dopo il sì della Camera dei Deputati alla richiesta di arresto il rappresentante del PD si costituì arrivando nel carcere di Messina su un'auto privata. uscì il 21 maggio per essere trasferito ai domiciliari nella sua villa di Ganzirri dove è rimasto fino a ieri e ritorna in carcere la conseguenza della decisione della Corte di Cassazione che ha respinto il ricorso presentato contro la richiesta della Procura di trasferire in cella il deputato. E tutto ciò, nonostante il GIP, solo pochi giorni prima ed in attesa dell'inizio dei processi avesse invece concesso un'attenuazione del regime dei domiciliari concedendo anche le visite di persone diverse dagli stretti familiari. i legali di Genovese hanno intanto presentato nuove istanze di scarcerazione. Telesoccorso 24 ore su 24 Vigilanza notturna e diurna Vigilanza fissa Punzonature Trasporto valori Global Security International Consorziato Sicurgem Contattaci per la tua sicurezza. Kikkovo Un amore d'uovo Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS